Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video dove vi farò vedere come attivare la musica qui su Die Rise We All Fall Down Allora, ci sono tre oggetti che dobbiamo prendere, ci sono i 3 teddy bear, i 3 orsacchiotti a differenza degli altri Allora, iniziamo subito con il primo, non vi taglierò il video perché vi faccio vedere anche il percorso più breve per attivarla Allora, iniziamo subito con fare un po' di punti, ci servono all'inizio 750 punti per aprire la stanza della corrente dove è lì il primo oggetto E poi ci serve anche comunque la corrente per attivare gli ascensori Quindi vabbè, adesso scendo, se qua non ce ne sono altri Ah, ecco l'ultimo là Vabbè, prendiamo la sensura Arriviamo alla stanza della corrente Attiviamola subito Il primo sacchiotto è qua Quando siete vicini sentirete un suono di onda all'elettromagnetica Che significa che lo potete attivare Sempre con il tasto azione Cioè quello per cui Il tasto per cui aprite la mystery box E sentirete un suono di conferma Ora passiamo al prossimo Dove ci andiamo? Da qua Quindi prendete qua l'ascensore E dobbiamo praticamente tornare Al grattacielo per capirci della zona iniziale adesso Andiamo qua Andiamo qua E ora Utilizzeremo il quick revive Questo ascensore Per tornare su In modo da non spendere troppo Appena si sarà degnato di scendere Ok E' sceso E' sceso Eccoci qua Salite qua E da qua Voi potete arrivarci Senza spendere un soldo Scendendo da questa E qui Andate Verso diciamo la strada Per arrivare alla mystery box iniziale E il secondo è quello qua Sempre tasto azione Ora Per l'ultimo Qua Vi ho portati qua Per un motivo Perché in questo modo Siete già Sulla strada per l'ultimo Senza dover arrivare a tornare indietro Quindi qua Scendiamo Qua dove Ci sarebbe la mystery box Che anzi Posso anche prendermi con qualcosa Vediamo cosa esce Eccellente Qua Scendiamo Qua arriviamo A dove c'è diciamo La caduta E l'ultimo Orsacchiotto E' praticamente Dove c'è La stanza Del Buddha Ok Qua adesso Ancora una barriera Se non prendevo l'arma Potevo già aprirla Quindi Avete Già la terza ondata Tra punteggi E Come soldi Ci è arrivato Insomma Vediamo Di far sti punti Basta Non ne vengono più Dai Niente ragazzi Non voglio Non voglio arrivare Oh ecco All'istante Sarà un sollievo Per le mie anche Andiamo Sono da questa 730 Ok Passiamo Cubito Bello scherzetto Vabbè una volta Arrivati qua Alla stanza Del Buddha Salite qua Diciamo Per la serie Di su e giù Che ci farete E l'ultimo Eccolo qua Una volta Fatto anche qua Il tasto azione Sentirete La canzone We all fall down Che inizia Io qua Non ve la metto Perché Per copyright Quindi Potete tranquillamente Cercarvela Potete sentirla Bene Direi che questo È tutto Ciao a tutti Scusate al prossimo video